... Presidente Guantono, continua questo weekend emozionante a Liguoro, arriva un'altra bella vittoria 3-0 contro una squadra importante. Certo, veramente, questa squadra che è stata formata, in realtà che doveva partecipare per i giovanissimi regionali, insomma che si sono avuto problemi all'atto dell'iscrizione per alcuni cambiamenti, gioca sotto età con delle squadre veramente di scuole calce molto pregevoli come il Casarea, si comportano bene e vincono senza mai soffrire, veramente sono molto orgoglioso di questa squadra. Sono anche giovani interessanti per il futuro e per il passaggio nelle categorie superiori? Ma io l'ho detto già quando all'inizio abbiamo iniziato con questo settore giovanile, ho detto che sogno di fare una squadra turris con tutti i giovani cresciuti nel nostro vivaio e penso che come sia alta la qualità riusciremo sicuramente ad avere dei ragazzi che potranno formare la nostra futura squadra Corallina. Presidente, mi ha dato un assist, torniamo sulla partita precedente della Juniors, una bella vittoria contro un Gladiator, una buona prestazione ed è arrivato anche il risultato. E' chiaro perché con la prima squadra, con il Gladiator c'è rimasto la mare in bucca, con la Juniors dovevamo cercare di fare risultato, sì ci sono dei ragazzi che nella Juniors che già in linea con la dirigenza della prima squadra, con l'allenatore della prima squadra, già sono stati messi sott'occhio ecco perché probabilmente verranno a dare una mano ai nostri. Nell'ultima trasferta appunto siciliana Nina in prima squadra? Certo che Nina parte per la prima squadra e che molto laboriosamente viene anche a darci una mano con la Juniors quando non viene convocata dall'altra parte. Grazie mille. Francesco Mancini è arrivata una bella vittoria con un gran gol. Sono molto contento. Felice di questa prestazione della squadra, come ti trovi? Sì, molto bene, è un gruppo molto coeso e con molti maghi di miglioramento. Ecco, siamo per il futuro, quali sono i tuoi obiettivi personali? Vogliamo vincere il campionato e fare il miglior possibile per aiutare la squadra. Presidente, è un po' emozionato il ragazzo, in bocca al lupo. Crepi. Grazie.